Volete essere padroni del vostro giardino e non essere più infastiditi dall'erbacce? Per controllare la continua e indesiderata ricrescita delle erbe infestanti, soprattutto nei grandi giardini, vengono spesso utilizzati erbicidi che possono danneggiare sia la salute sia l'ambiente. Al fine di controllare facilmente l'erbacce senza il ricorso ad ausili chimici, offriamo teli di copertura ecologici di qualità professionale a un prezzo accessibile. Con il telo di copertura Aquagart è possibile evitare il trattamento con sostanze tossiche. Il tessuto, molto resistente, è realizzato con striscioline di polipropilene, garantisce la massima protezione in caso di condizioni gravose o in presenza di erbacce aggressive. Stenderlo è un gioco da ragazzi. Innanzitutto occorre ripulire l'aiuola dall'erbacce prima di procedere alla posa. Stendere poi il vello per erbacce Aquagart fissandolo al terreno con appositi ancoraggi. Nei siti coltivati occorre ritagliare nel vello un'apertura a forma di X. Ora si può piantare l'aiuola o far passare le piante esistenti attraverso l'apertura. Il tessuto è resistente ai raggi UV e non necessita di essere coperto. Per abbellire ancora di più l'aiuola si può ricoprire il vello con ghiaia o pacciame. Con il tessuto di copertura si ottiene un'efficace protezione dall'erbacce. È immarcescibile, permeabile all'acqua, resistente al gelo, alla grandine e ai raggi UV. Ci sono altre domande o serve qualcos'altro come ad esempio un telo per le erbe infestanti o una recinzione? Da noi si può trovare tutto questo ed altro ancora e il nostro competente team sarà lieto di offrire consigli e assistenza.